L'adri in azione alle prime ore del mattino nel Mirino il bar Giass Bacheri di via Salvatore Allende a Giuliano. I malviventi infatti hanno dapprima forzato una serranda ma poi si sono ritrovati davanti una vetrata e quindi hanno letteralmente divelto la Saricinesca vicino. Il tutto poco prima del 3 del mattino, un raid fulminio. I malviventi poi una volta all'interno del locale hanno asportato tre televisori al plasma, due iPad e il registratore di cassa al cui interno c'erano oltre 600 euro. Il colpo è stato messo a segno nel giorno dei festeggiamenti in onore della Madonna della Pace, un raid che ammunta con prese di danni ad oltre 3.000 euro. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Giuliano che hanno sequestrato le immagini del sistema di videosorveglianza per risalire ai autori del colpo.